L'ho ammettito. Questa corazza è davvero scoda. Suppongo che molti gladiatori morissero prima di sviluppare... Ibritazioni. Eh! Hanno le unghie affilate! Qualcuno potrebbe guardarmi le spalle? Non tu, Diego. Almeno i muri ci danno ancora una mano. E poi io accedo. Il legno è debole, come quello sulla nave. Carpentiere! No! Qui non vogliamo, Gettaglia! Sei piena di rabbia e delusione nei confronti di tuo padre. Ma ho notato che non parli mai di tua mamma.